Ciao a tutti ragazzi, io sono Wadsham su Gorgonanda, oggi siamo su Happy Wheels, dal primo episodio, al nostro livello, partiamo con Steve, Steve dove sta? Steve è il mio preferito, sono morto, raga, vabbè, cambio verso l'ancio, raga, mi metto, no, vabbè, mi trovo un po' guardate, Sì, no, Giobbiano, raga, mi metto Steve, vado giù così, è fatto, Toi, vai, anneggia, anneggia, no, raga, passiamo al prossimo livello, su qua ce la scrivo, Siamo a questo livello, Vi farò un altro episodio con Master Chief, Perché giocherò un bettato, yes, Perché non so qua, Ho sbagliato, Sbagliato, Su qua era pure bello, Su qua l'ha fatto fare il gesto livello, A l'ha fatto fare il gesto livello, Allora, e questo, Questo. E' già raga, non si rompe. Lo scommetto che non è questo. Vabbè raga, passiamo al prossimo livello. Che livello era? Ho comunicato anche uno. Uno. No, passiamo tutto. Vabbè, non lo farò tutti. Vediamo questo. Stiamo. Dove sta? No, ho sbagliato. Oggi che schivato? Che schivato ha fatto? Amine. 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 Che palla è. Basta. Non so' il prossimo livello. Raga, non so' completare anche uno. Non è anche uno. No, questo proviamo. Oddio, 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 oddio. Ehi, oddio, oddio. Ecco. no ho sbagliato no basta faccio ultimi 5 livelli e concludo scriviamo fa qui si è fatto come si si è fatto c'è questo oh no è difficile come come raga non ho capito niente con questo livello faccio 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 questo questo livello vorrei vedere chi butta la carta per terra e non la raccoglie questa volta non lo buttara io eh? questa volta non lo buttara io e qui c'è l'italia qua? oh no non lo buttara io guarda oh uno uno due è sacro cosa? uno e due questo se lo hai tagli a mattia perchè ora devi prendere anche tu eh non è che lo devo fare io ah non sai no davvero non è stata io con sopra non so come ci finiva laggiù ma se non te l'abbiamo di buttare la carta per terra tu vedi io non lo sado io non lo sado vado a perdere il conto su qualcuno è salvo ecco facciamo un po'etti che gusto che gusto ragazzi che ropa che ropa che ropa che ropa che ropa che ropa ok abbiamo ragazzi ultimo livello e concludo il video vai giù come suello vabbè raga spero il video vi sia piaciuto lasciate un commento e un mi piace ci vediamo alla prossima e allora ragazzi